Grazie Presidente, sono veramente felice che abbiamo votato lei come Presidente e ovviamente mi aggiungo agli auguri per il lavoro che sta per svolgere. Allora, io vorrei cominciare questo intervento con delle parole. Chi non ha memoria non ha futuro, perché dagli interventi che ci sono stati qui in aula, io sinceramente rimango davvero basito su alcune osservazioni che sono state fatte. Sembra veramente che stiamo nella fantapolitica, qualcuno sogna delle cose e crede che poterle dire in aula possano ritenersi reali. Allora, noi abbiamo trovato una società ATAC fallita, un miliardo e trecento milioni di debiti. La consigliera Piccolo dice che i giudici pensano ai creditori e non pensano agli autobus. Niente, è falso, è sbagliato, perché il giudice la prima cosa che è andato a verificare è la valutazione sul piano di rilancio dell'azienda. Io ritengo che questa amministrazione, il lavoro che sta facendo su ATAC sia uno dei lavori più importanti e i risultati migliori che sta ottenendo per questa città. Noi quando a settembre 2017 abbiamo avviato la procedura di concordato preventivo dopo mesi e mesi di lavoro per partire con questa attività in quest'aula ho sentito degli urli che dicevano Voi volete far fallire ATAC, ma sicuramente sarà un fallimento, un miliardo e trecento milioni, non sarà possibile. Per cui voi volete regalare ATAC ai privati. Ebbene, noi ci ritroviamo a oggi, nel 2019, che il concordato preventivo ha espletato il suo corso. I giudici hanno dato un parere positivo, i creditori hanno votato il piano di rilancio di ATAC e adesso il concordato preventivo sta iniziando il suo percorso di rilancio dell'azienda. Noi abbiamo salvato ATAC, ATAC pubblica, questo abbiamo fatto e non è quello che hanno fatto gli altri fino adesso. Ci siamo ritrovati in una situazione non solo di avere una società con un miliardo e trecento milioni di debiti, ma con un parco mezzi di età media di dodici anni. Quando l'età media deve essere almeno di otto anni, poi dopo non possono più circolare. Ci sono autobus che circolano a Roma, che hanno quindici anni. Noi ci siamo ritrovati che quando abbiamo iniziato l'attività amministrativa in questa città, sulle palline degli autobus c'erano gli orari per l'uscita di 1.525 autobus. Ne uscivano 1.100. Quando noi abbiamo preso la decisione di dire la verità alla città e dire quando escono realmente gli autobus sui giornali e le opposizioni hanno gridato state tagliando le corse degli autobus, no, stiamo dicendo la verità. Questo abbiamo fatto fino adesso. Io ritrovo veramente imbarazzante le affermazioni che hanno fatto le opposizioni in quest'Aula. Nel piano di rilancio dell'azienda, che sicuramente avrete letto, c'è scritto che noi acquisteremo 780 nuovi autobus nei prossimi tre anni, di cui 227 sono quelli che noi stiamo discutendo adesso e che arriveranno a giorni. Stiamo assumendo degli autisti e dei meccanici, per cui stiamo cercando di organizzare tutta l'attività lavorativa per far sì che il servizio possa essere migliore. Noi ci rendiamo conto che le difficoltà dei cittadini nella città sono ancora elevate. Lo sappiamo, lo sappiamo perfettamente, ma in questo quadro, in questa situazione non poteva essere altrimenti. Però alcuni segnali vanno nella direzione giusta. Nel 2018 noi abbiamo incassato 5 milioni in più dell'anno precedente. Perché? Perché si vendono più biglietti e si fanno più multe. Perché da quando c'è questa amministrazione ci sono i controllori sulle autobus e si fanno le multe. 19 mila multe al mese, di cui il 25% vengono pagate immediatamente perché abbiamo dotato i controllori dei POS per poter pagare immediatamente le multe. Questo è quello che sta facendo questa amministrazione. Per cui noi vediamo la luce in fondo al tunnel. Su Atac è stato fatto un lavoro straordinario. Lo sappiamo, nella città non si vede ancora nelle strade, ma presto si vedrà. E se si vedrà un po' alla fine di quest'anno, si vedrà ancora meglio nel 2021, perché avremo 780 nuovi autobus che circoleranno nella città. Per questo motivo io credo che questo passaggio che noi stiamo facendo sia assolutamente importante. Le critiche che ci fanno le amministrazioni dopo la parentopoli di Atac, dopo il disastro economico di Atac, dopo tutto quello che ci hanno fatto. Noi stiamo risanando Atac e la stiamo risanando pubblica, mantenendo pubblica. Trovo che siano veramente degli interventi inqualificabili. Per questo è ovvio che la maggioranza approverà questa delibera. Grazie.